ci troviamo in un'altra stanza del mio vittoriale il famoso bagno blu è inutile spiegarvi il perché del nome è un bagno per esteti ed è il luogo ideale per parlarvi del mio rapporto ambiguo con la società di massa che si sta sempre più affacciando alla storia da una parte come esteta non posso che disprezzare le masse perché rozze e incolte incapaci di riconoscere il bello lo dico chiaramente all'inizio del mio primo romanzo il piacere ascoltate questo passo che se paragonato con quello che vi dirò dopo appare ambiguo se non incoerente sotto il grigio diluvio democratico odierno che molte belle cose e rare sommerge miseramente va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizione familiare deletta cultura, deletta eleganza e di arte capite bene io paragono la società di massa ad un diluvio un diluvio democratico che tutto sommerge con la sua rozzezza nella letteratura nell'arte io affermo questo ma nella vita reale posso mai non tener conto di una società che sta mutando? no di certo allora cosa faccio? come mi rapporto alla nascente società di massa? beh, me ne servo prima come pubblico pagante infatti curo personalmente due edizioni una per i colti quindi una edizione raffinata un'altra più popolare una edizione tascabile destinata proprio al pubblico della massa più in là ormai ho abbracciato totalmente la filosofia nicciana del superuomo questo diluvio democratico sarà trasformato in un esercito che esalta la mia grandezza grazie a tutti Grazie a tutti.